cari amici di rado maria buona giornata a tutti sulle 9 o minuto di lunedì 28 ottobre 2024 pace gioia a tutti voi cari amici in ascolto e che la luce della parola di dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità del bene e sulla via della pace andiamo al nostro programma la lettura cristiana della cronaca della storia cari amici anche oggi cominciamo con il nostro pensiero spirituale che oggi vorrei dedicare proprio anche allo spunto che ci ha fatto la madonna nel messaggio dell'ultimo l'ultimo messaggio la madonna ci ha appunto ha fatto riferimento alla festa dei santi e ci ha detto appunto di imitare i loro esempi sulla via della santità allora prendo questo spunto cari amici per fare una riflessione con voi sull'importanza del buon esempio nella vita cioè sull'importanza che ha il buon esempio sulla vita degli altri e questo è un dato diciamo così che noi conosciamo per la nostra esperienza però è anche fa parte della cultura mondiale la cultura dei popoli infatti uno dei detti proprio anche dei pagani dice proprio è che sempre a traunt cioè gli esempi trascinano no ovviamente si tratta di noi parliamo di esempi buoni gli esempi buoni trascinano sulla via del bene perché perché gli esseri umani e sono così insomma si guardano si studiano e si imitano a vicenda e purtroppo questo avviene sia per quanto riguarda il bene sia per quanto riguarda il male quindi è il comportamento degli altri il nostro comportamento ha un'influenza sugli altri può avere un'influenza negativa se un comportamento negativo è sulla via del male diciamo sulle vie delle cattive opere può avere una un'influenza positiva se invece è sulla via del bene poi ovviamente dipende anche da tante circostanze ma tante situazioni diverse per esempio è noto che i ragazzi giovani si guardano molto fra di loro e si influenzano molto fra di loro per cui molte volte c'è sempre un leader che magari nel bene influenza gli altri più piccoli e magari c'è un leader che influenza anche gli altri sulla via del male quindi a seconda anche delle situazioni dell'età delle circostanze questa influenza sugli altri può essere più o meno accentuata allora quello che si può notare cari amici è che se è vero che i buoni esempi trascinano ed è per questo che la madonna ci invita diciamo ci invita a imitare gli esempi dei santi purtroppo è vero che anche i cattivi esempi trascinano cioè il male cari amici ha una sua seduzione una sua capacità di sedurre questo noi lo vediamo soprattutto nella tentazione che è una induzione al male nella quale il diavolo ti prospetta il male come se fosse un bene sotto colore di bene dice santa caterina da siena per cui per cui diciamo tu ne sei sedotto e ne sei trascinato e infatti noi abbiamo molti esempi nella nostra vita ma anche nella storia nella società esempi di personaggi che sono negativi che sono perversi che sono diabolici e che comunque hanno un grande fascino hanno una grande un grande potere di attrazione lo vediamo perfino sul livello proprio della dello scenario sul palcoscenico mondiale e noi vediamo come il palcoscenico mondiale per esempio sia popolato di personaggi ambigui di personaggi che puntano che puntano al potere all'autopotere alla glorificazione di se stessi al dominio puntano alla gloria e molte volte per raggiungere questi fini questi obiettivi come dire non vanno a mezzi e usano anche i mezzi più efferati e vediamo se lo guardiamo indietro nella nostra storia di quest'ultimo secolo vediamo che sul palcoscenico sono apparsi molti personaggi che noi sotto profilo diciamo così del giudizio cristiano potremmo 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 benissimo giudicare come personaggi diabolici diabolici per la loro prepotenza per la loro ferocia per il loro inganno capacità di inganno per la loro superbia cari amici dobbiamo anche saper giudicare il bene e il male così come interpretato da questo o quella persona anche se ovviamente dovevo dare dei giudizi equi ovviamente allora è così cari amici e purtroppo siamo andati in una fase della storia che è questa che è questa nella quale viviamo dove gli esempi di male si moltiplicano si moltiplicano in un modo impressionante e cioè se tu prendi un radiogiornale vedi dopo i primi 5 o 6 minuti prendo dei radiogiornali delle televisioni più importanti dopo i primi 5 o 6 minuti dove si parla diciamo della situazione internazionale poi comincia l'elenco della cronaca nera cioè tutto un susseguirsi di delitti efferati spesso noi da qualche mese abbiamo visto purtroppo è incominciato è incominciata la sequenza degli accoltellamenti di giovani che ammazzano altri altre ragazze è cominciata la sequenza degli idea dei dei coltellamenti e è quella che stupisce è che vengono ormai presentati come se fossero fatti interessanti come se fossero cose diciamo di cui parlare per cui poi cosa succede succede che invece le mete più fragili le psicologie più fragili ne sono impressionate e quindi si diciamo così si induce a fare altrettanto si spinge a fare altrettanto e noi vediamo che è una sequela continua uno dopo l'altra e non c'è verso che qualcuno comincia a pensare ma forse dovremmo stare attenti a non proporre questi fatti questi esempi queste situazioni che impressionano la psiche fragile poi inducono al male inducono ad imitare inducono a fare lo stesso chi conosce la fragilità umano e poi anche la fragilità specialmente dei più giovani sa che questo queste influenze queste forme di imitazione si propagano eppure noi riempiamo i mass media di questi fatti di questi fatti li analizziamo da mattina a sera facciamo delle trasmissioni speciali e cioè c'è oggi in un modo esasperato in un modo così complice sembra quasi complice una esposizione del male a tutti i livelli come se fosse uno spettacolo da guardare come se fosse uno spettacolo da mangiare quasi di cui nutrirsi a cui interessarsi da approfondire e poi cosa succede succede che si dilata si dilata si diffonde e trascina trascina le persone nell'ingranaggio nell'ingranaggio della violenza della menzogna dell'esasperazione della impietà è in pietà cari amici per cui tu vedi dei personaggi dei personaggi che sono dei perfetti diavoli espongo nel male come se fosse qualcosa che loro sono riusciti a realizzare con una freddezza impressionante ma è una è un panorama vastissimo nel quale come dire io mi chiedo quale 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 ricaduta ha sulla società una questa forma di informazione questa non è una forma di informazione questo è un intossicamento spirituale è una deformazione morale è un indurre al male un indurre in tentazione bisogna mettere freno cari amici e quindi bisogna bisogna fermare il male e fermare il male che viene diffuso con i cattivi esempi bisogna fermare il male col bene cioè con i buoni esempi cari amici cioè dobbiamo 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 entrare in questa in questa battaglia che è fra il bene e il male e dobbiamo opporci al male alla sua diffusione alla sua inarrestabilità alla sua dittatura c'è una dittatura del male che passa anche attraverso i mass media bisogna opporsi col contrario e cioè con le esempi con la testimonianza del bene con la testimonianza delle buone opere con la testimonianza dei reti comportamenti con le opere dei beni che si fanno con gli esempi di gratuità di carità di non violenza di cooperazione di carità e questo non perché viene la televisione poi a quella delle altre giorni viene sempre quando c'è qualcosa di cattivo ma è quando c'è qualcosa di buono ma noi dobbiamo farlo perché se non si mette argile al male questo mondo diventa un inferno cioè se al male non viene opposto il bene è il bene che fanno le persone il bene che fanno i cuori buoni se manca questa contro replica questa opposizione al male questa interdizione del male se manca questo cari amici noi ormai diventiamo come dire assuefatti al male per cui siamo cattivi ma non è che ce ne accorgiamo abbiamo acquisito un linguaggio diciamo così immorale abbiamo acquisito comportamenti immorali giustificazioni immorali cioè abbiamo fatto di noi stessi dalle persone pervertite che pervertono ma questo cari amici gradualmente è quello che si sta realizzando nella società che diventa un inferno perché gli uomini diventano cattivi perché gli uomini come dice appunto la madonna se ha delle mie immagini e non immagini del maligno questo avviene perché gli uomini diventano immagini del maligno e diventando immagini del maligno influenzano gli altri su questa strada cari amici quindi questa è una riflessione che ovviamente riguarda la vita personale prima di tutto perché poi è ognuno di noi che debita prendere la battaglia c'è la santa battaglia di essere persone buone persone erette persone veritiere persone caritatevoli persone giuste persone pacifiche mi pare un'opzione questa che sia più che mai desiderabile perché è su questa strada che poi si è diffusore di bene si è anche diffusore di gioia di felicità non è non è la medesima cosa essere buono essere cattivi non è la medesima cosa bere un bicchiere d'acqua fresca un bicchiere con detto in veleno non è la medesima cosa comportarsi in un modo comportarsi in un altro no no il bene e il male il vero e il falso il buono e il cattivo è tutto l'elenco che si può fare quindi alla cima Dio e il diavolo sono incompatibili e bisogna fare la scelta bisogna decidere a che parte stare ora ora quello che impressiona è che c'è una degradazione generale verso il male anche perché il male non viene riconosciuto come tale viene riconosciuto come un'opzione della libertà e quindi come tale va rispettato no no cari amici c'è la moralità ciò che costruisce ciò che è bene ciò che fa bene che va tutelato dalla legge va tutelato dalla società e c'è il resto che fa male va combattuto non c'entra qui la libertà perché anzi la libertà soffoca se stessa uccide se stessa quando percorre la via della menzogna la via della violenza per cui ci deve essere una reazione una reazione della società di noi stessi personalmente prima di tutto ci deve essere una reazione della società ci deve essere una tutela una tutela diciamo così del patrimonio di bene che benefica la società e questa tutela deve essere collettiva deve essere da parte della legge deve essere da parte dello Stato deve essere da parte delle associazioni deve essere da parte di tutti insomma perché di questo passo come vedete come vedete è una cosa impressionante ormai ormai come dire non vedi più i delinquenti che si pentono ne vedi pochi vedi quelli che squartano e poi vanno pure a vantarsi davvero fatto o comunque diventano degli eroi a loro modo e invece dobbiamo dare il giudizio che va dato a ciò che è pervertito a ciò che è gattivo dare un giudizio negativo dare un giudizio un marchio di infamia per chi uccide certo ci fa la misericordia per tutti ma però cari amici guai a noi se arriviamo a un tipo di società dove uccidere o non uccidere è una medesima cosa ma questo è il tipo di società verso il quale rischiamo di andare dove imperversa la violenza la menzogna le ruberie diciamo così le imposture le forme di oppressione è un dilagare unico e che non lo ferma più nessuno cari amici se non i cuori che si convertono se non i cuori che resistono se non i cuori che con fatica lottano per il bene bene carissimi questo volevo dire voleva anche essere una denuncia nei confronti ormai dei mass media che come niente fosse se ci danno ogni giorno una dose una dose di delitti uno dopo l'altro e perché lo fate credete di migliorare la società in questo modo non lo so fate un esame di coscienza bene carissimi questo è quello che volevo dire e cioè che l'esempio è sempre contagioso facciamo sì cari amici che che i nostri esempi siano quelli buoni che edificano e non quelli cattivi che distruggono bene giriamo pagina cari amici dunque in questi mesi noi voi per i cambiamenti climatici voi per una cosa voi per l'altra abbiamo assistito diciamo così diciamo situazioni anche di grande sofferenza e a causa della siccità e poi successivamente situazioni di grande sofferenza a causa delle alluvioni noi in questi casi come avete notato abbiamo prima aspettato per vedere se c'erano iniziative di questo genere poi vedendo che iniziative di preghiera non ce ne erano affatto e allora abbiamo abbiamo pregato nei nostri rosali della sera abbiamo esortato a pregare prima perché il signore del seracqua adesso ultimamente abbiamo incominciato a pregare perché appunto mandarsi il bel tempo laddove invece imperversano le allusioni ora quello che volevo dire amici è a parte il fatto che questa è la tradizione della chiesa da sempre quindi fino alle origini sono poi data parte Gesù stesso dimostrato la sua signoria sul 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 lago quando la barca degli apostoli dove c'era anche Gesù stava per affondare gli apostoli si sono rivolti a lui il signore salvaci hanno detto signore salvaci e Gesù li ha improverati per la mancanza di fede perché appunto dovevano sapere che essendo sulla barca non sarebbe affondata però diciamo beata questa mancanza di fede perché è permesso a Gesù dimostrare la sua signoria sulla natura cioè ha plecato ha fermato le onde è tornato la bonaccia si è fermato il vento è tornata la bonaccia allora prendo lo spunto da questo fatto perché per dimostrare una grande verità della teodicea cioè della teologia della teologia che riguarda appunto l'olipotenza divina cioè che Dio non solo crea il mondo ma lo governa con sapienza e con bontà e quindi quello che noi chiamiamo provvidenza divina in realtà è il governo di Dio del mondo Dio governa il mondo attraverso la natura ma lo governa in un modo tale da far sì che il tutto converga verso il fine che Dio si prefigge con la creazione che poi è la beatitudine delle creature allora allora non c'è dubbio cari amici che nella teologia cattolica e quindi nella fede cattolica noi crediamo che Dio governe il mondo e crediamo che Dio abbia potere sulle leggi della natura crediamo che Dio possa anche sospendere le leggi della natura per esempio non c'è dubbio che quando ha moltiplicato i panni e i pesci ha sospeso le leggi della natura per dirne una e questo ce l'ha anche ricordato la Madonna in uno dei suoi messaggi che ha detto che con la preghiera e col digiuno si possono fermare le guerre e anche sospendere le leggi naturali non è che lo facciamo noi lo fa Dio quindi cari amici si parte da un principio teologico molto preciso e cioè che Dio governa nel mondo e quindi noi possiamo pregare pregare perché Dio mandi la pioggia in un momento di necessità questo è teologicamente fondato teologicamente auspicabile e sempre la Chiesa l'ha fatto già dal tempo degli apostoli ha fatto questo insomma perché noi crediamo che Dio ha creato il mondo e che Dio lo governa e che Dio esiste e che Dio non dorme insomma e la medesima cosa cari amici quindi preghiamo perché nel tempo di siccità piova e perché nel tempo di alluvioni Dio mandi il bel tempo perché secondo voi Dio deve fare qualche fila qualche ufficio statale per ottenere il permesso di fare qualche miracolo Dio fa i miracoli come quando vuole gli basta a Dio basta la fede dei fedeli se Dio ha la fede dei fedeli interviene e fa i miracoli d'altra parte cari amici dobbiamo fare gli elenchi che possono essere lunghi chilometri chilometri di miracoli che Dio ha fatto di ogni genere specie riguardo alla natura riguardo alle guarigioni risurrezioni dei morti anche da parte di non soltanto da parte di Gesù ma anche da parte degli apostoli tanti santi cioè resurrezione dei morti guarigioni di ogni genere specie sospensione delle leggi della natura una volta nei santuari c'erano tutti i quadretti con tutti i miracoli fatti perché allora c'era la vista la vista spirituale con la quale si vedeva il miracolo adesso siamo acceccati non lo vediamo neanche più neanche quando Dio ce lo dà non lo vediamo allora cari amici la fede ci dice che Dio fa i miracoli e fra questi miracoli c'è anche quello di mandare l'acqua quando c'è la siccità ma se lo chiediamo con fede c'è anche quello di placare i venti e il mare i venti e diciamo le onde del mare e quelle dei fiumi in caso di esondazioni come vediamo in questi giorni per cui dovrebbe essere normale che la chiesa secondo la sua tradizione esotti fedeli alla preghiera e quindi dovrebbe essere normale la preghiera per queste calamità e come no dalla peste dalla fame dalla guerra dal terremoto salvaci liberaci oh signore ma ce le ricordiamo queste cose queste baghiere o non ce le ricordiamo allora è come dire normale nella luce della fede pregare per il pane quotidiano quindi per la vita quotidiana per la nostra salute quante guarigioni abbiamo da parte da parte del signore senza bisogno di medici e quante benefici Dio ci manda attraverso le opere della natura quindi questa è la visione di fede che noi abbiamo diciamo nella dalla teologia e dalla creazione quindi non c'è nessuna superstizione non c'è nessuna superstizione se qualcuno dice che è superstizione io gli mando il mio libro sul modernismo gli dico di studiarlo a memoria che farebbe meglio perché questo è fatto che molti oggi non credono più non credo più neanche in Dio ma non credo più neanche che Dio fa i miracoli non credo neanche dell'aldilà e allora allora scusate ma cambiate religione che fate meglio cambiate religione che fate meglio bene carissimi scusate questo piccolo sfogo ma adesso che si arrivi addirittura a censurare quelli che pregano perché Dio ci mandi bel tempo perché Dio ci preservi delle allusioni perché non pregavamo perché Dio ci preservasse dal virus non preghiamo perché Dio ci preservi dalla guerra dalla fame dalla carestia dalle malattie infettive non preghiamo per questo preghiamo allora per questo è nel nostro diritto pregare per questo noi sacerdoti facciamo pregare per questo invitiamo i fedeli a pregare per questo e perché non lo facciamo facciamo fare una radiografia alla nostra fede forse avremo una risposta allora cari amici ho trovato questo articoletto interessante un po' un po' pepato però anche il pepe fa parte degli ingredienti della buona cucina sul fatto che appunto è un articolo pubblicato dalla nuova bussola e l'autore lui si era scorsati che che dice che i sacerdoti dovrebbero pregare quando ci sono le alluvioni e benedire i flui perché non esondino e perché no ma ci crediamo o non ci crediamo che Dio lo può fare Dio lo può fare o non lo può fare lo scomodiamo forse allora gli apposti perché hanno scomodato Gesù Cristo che pure era sulla barca perché Pracassero è un del mare insomma siamo con la medesima mentalità secondo la quale si fa tabula rasa di tutti i miracoli della Sagra Scrittura come su quello dell'Evangelio e poi non si vuole vedere nessun miracolo neanche si diputano una pistola alle costole non li vogliono vedere infastidiscono qualcuno ha paura che Dio esista davvero allora sta alla larga sono parole che un po' pesantine ma che riflettono molto bene la realtà di non fede di incredibilità che c'è oggi che dilaga oggi nel mondo allora vediamo questo articoletto che è scarito se non vado errato da una persona che è di quelle parti lì di Bologna e quindi sa cos'è un'alluvione ancora una volta scrive maggio 2023 settembre 2024 ottobre 2024 l'acqua continua a castigare la nostra regione Emilia Romagna accendendo rabbia e sconforto fra famiglie e aziende che hanno di nuovo perso tutto e che anche questa volta hanno falciato una giovane vita a valle allagamenti riempiono scantinate e taverne invadono campi e mettono in ginocchio la vita delle città in collina il fango cola dall'alto e i fiumi esondano in basso stringendo i paesi in una terribile morsa in montagna si attivano e riattivano frane e si sbricerano le strade le responsabilità ci sono perché chi vive qui sa molto bene che dallo scorso anno ad oggi ben poco si è fatto si è ricostruita qualche strada si sono per lo più sgombrate frane lasciando però il territorio con le sue ferite aperte siamo in ginocchio ma ancora una volta non ci vogliamo in ginocchiare ancora non vogliamo capire che la nostra vita è fragile e che per quanto ci sfasciamo la testa con progetti di messa in sicurezza nel territorio assolutamente necessari per la nostra vita però non è mai assicuro si prova una pena infinita nel vedere queste povere persone che nel giro di una manciata dei minuti hanno perso tutto chi la casa chi l'azienda agricola chi i beni da migliaia di euro senza dimenticare oggetti che tessono la storia di una vita più o meno lunga qui a Bologna all'acqua si è aggiunto subito dopo il fuoco con la terribile esplosione avvenuta alla Toyota Handig di Borgo Panicale dove nemmeno tre giorni prima si era sfiorata la tragedia per l'allagamento improvviso di un sottopasso allo svincolo della tangenziale di fronte a queste tragedie di fronte alla morte di tre giorni di tre giovani si comprende la rabbia si comprende lo sconcerto ma dietro le espressioni di morti inaccettabili o di eventi che nel 2024 non devono più capitare su modi di dire non si può non riconoscere i resti dell'ubriacatura ideologica che ci è stata fatta bere per decenni vediamo qual è questa ubriacatura ideologica allattati a progresso e scienza ci viene automatico parlare di ingiustizia di fronte a incidenti e catastrofi e pensare che se si fossero applicati i protocolli se ci fossero stati controlli più rigidi se si fosse stato fatto qualcosa qualsiasi cosa il lutto e la tragedia si sarebbero allontanati da noi è quanto di più lontano dalla nostra mentalità adulta e progredita pensare che non siamo migliori dei nostri antenati che per quanto l'ingegno umano si aprica la realtà e giustamente la realtà è più grande di noi cioè l'illusione di governare la natura è un'illusione pericolosa chiaro? e quanto di più lontano dunque la tentazione terribile che si afface in queste situazioni è quella di pensare che lasciando tutto nelle mani di uno più capillare o giornate intelligenza artificiale nessun sgradevole imprevisto sarà più all'orizzonte l'uomo sbaglia ma la tecnica no quindi cari amici ti diranno che pian piano col PNR non ci saranno più alluvioni è la scemenza dei nostri tempi questa lo datelo bene è meglio vediamo cosa dice la fede al riguardo qui abbiamo visto la mentalità dell'uomo che si mette al posto di Dio e che vuol fare vuol essere onnipotente come Dio solo che poi basta un raffreddore per farlo sedere per terra vediamo cosa dice il Salmo è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti il Salmo 117 questa è la strada che la parola di Dio ci indica quest'altra è quella da cui ci insegna di stare lontani maledetto l'uomo che confida nell'uomo che pone nella carne il suo sostegno e che dal Signore allontana il suo cuore cioè maledetto l'uomo che confida nell'uomo che pone nella carne il suo sostegno e dal Signore si allontana il cuore l'articolo potrebbe finire qui chiedendo solo al lettore di ripetersi di ripetersi queste parole all'infinito perché spezzino tutti i legami dell'ideologia del progresso e la vino via tutti i resti dall'idolatria degli esperti che albergano in noi più di quanto pensiamo ma qualcosa in più dobbiamo dire perché qualcosa si può e si deve fare Gesù se le poche case oneste di questo porco paese scusate sulle parole di Don Camillo Gesù se le poche case oneste di questo porco paese potessero galleggiare come l'acqua di Noè io vi direi fate gonfiare il fiume che strabocchi spacchi l'argine e sommerga tutto il paese è una preghiera di Don Camillo ma siccome la gente onesta vive in case uguali a quelle dei farabutti e sarebbe ingiusto ponere i buoni per la colpa di questo peppone e della sua giurma senza Dio e senza legge o Dio vi prego di salvare il paese dalle acque e dagli prosperità Amen molti avranno riconosciuto in questa singolare preghiera la benedizione del fiume Po del celebre film Don Camillo e Peppone Sono scene che non si vedono più per svariate ragioni primo perché i predi non credono più a queste trovate di sapore medievale se ci sono problemi ai fiumi deve vedersela la ragione che razza della religione preconciliare sarebbe quella che si mette a pregare Dio di impedire ad un fiume di invadere un paese e travolgere dalle case come può un prete del secondo e terzo millennio pensare di benedire le acque di un fiume perché da questa benedizione siano domati e turnino ad essere docili io sono del primo millennio invece secondo perché non ci sono più compagni bel telone di Peppone e compagnia e se non ci sono spiace dirlo è perché semplicemente non trovano davanti a sé alcuna contrapposizione alcuna identità chiara cioè cattolici sono liquefatti oggi non vediamo scene simili semplicemente perché se non vediamo più un prete che benedice il po' come Peppone semplicemente perché non c'è più alcuna ideologia che contrapponga compagni e preti essendo ormai tutti della stessa parte cioè tutti diciamo così lasciatemi trovare tutti modernizzati terzo perché per pronunciare una preghiera così quella di Peppone per calmare il fumo e udirla senza gridare allo scandalo è necessario avere ancora il senso di Dio e del nostro peccato cioè questo ormai queste preghiere qui non si sentono più perché non abbiamo più il senso di Dio del nostro peccato è necessario avere la consapevolezza che quanto ci capita ce lo meritiamo perché abbiamo abbandonato Dio per volgersi agli idoli delle nostre mani è necessario avere in cuore i sentimenti del timorato di Dio come Tobi che dice che prega ora Signore ricordati di me guardami non punirmi per i miei peccati e per gli errori miei e dei miei padri violando i tuoi comandi abbiamo peccato davanti a te tu hai lasciato che ci spogliassero di beni ci hai abbandonati alla prigionia alla morte ad essere la favola lo scherno il disprezzo di tutte le genti fra le quali ci hai dispersi ora nel trattarmi secondo le mie colpe e le colpe dei miei padri veri sono tutti i tuoi giudizi perché non abbiamo osservato i tuoi decreti camminando davanti a te nella verità e chi non è stato colpito per ora si guarda bene dal pensare di essere meno peccatori degli altri come detto Gesù crevete che quei galilei fossero più peccatori di tutti i galilei per aver subito tale sorte no vi dico ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo o quei 18 sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme non vi dico ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo dunque conclude la signora che ha scritto questo articolo lui si era scrosati torniamo all'inizio di questo articolo se la gente ormai preferisce abbassare gli occhi verso la tecnica piuttosto che alzarli verso il cielo è perché non c'è più nulla di visibile che ricordi loro Dio e siccome nell'ottima comune la benedizione è ancora uno di quelle cose che mostra la vicinanza di Dio e fa parte del mestiere del prete fra virgolette non vedere più preti fare il loro mestiere contribuisce potentemente a far sparire Dio dall'orizzonte della vita non si vede più un prete dare una benedizione si direbbe al di fuori della messa in pubblico dopo un'alluvione gli operai salgono sulle suspe i volontari si armano di stivali e pale ma perché i preti non fanno il loro mestiere perché non tornare a benedire questi fiumi perché non erigere come si fa tradizionalmente delle piccole edicole di solito mariane a protezione dei paesi dalla furia del fiume perché non tornare a pregare pubblicamente le litanie dei santi per domandare a Dio un tempo più umite noi credo Maria lo facciamo regolarmente cioè quando vediamo che c'è bisogno per la siccità andiamo e cominciamo a pregare finché non piove adesso stiamo pregando per il bel tempo da una settimana e andremo avanti a pregare finché non ci sia quel bel tempo che dia un po' di sicurezza alle famiglie poi la nostra scrittrice che sia benedetta lancia una sfida e scrive qui sotto riporto la benedizione contro le inondazioni tratta dal rituale romano antico portate ai vostri sacerdoti chiedete loro di benedire i fiumi e accompagnateli allora vediamo questa benedizione contro le inondazioni prima è prima è in latino però noi la leggiamo in italiano dunque il sacerdote con il popolo porta agli argi del fiume la reliquia della Santa sempre bello che con il popolo col sindaco con il rappresentante di tutti i partiti rappresentanti di tutti i partiti come avveniva ai tempi di Peppone e quindi anche dell'opposizione per così dire e poi con diciamo così i vari rappresentanti della protezione civile eccetera eccetera tutto quello che serve in rappresentanza del governo e dell'opposizione eccetera eccetera cosa fa con il popolo quindi tutto il popolo compresi i giornalisti eccetera eccetera e porta cosa fa porta agli acini del fiume la reliquia della Santa Croce e li legge l'inizio dei quattro e li legge l'inizio dei quattro Vangeli dopo ogni Vangelo raggiungo le seguenti preghiere vediamo le leggiamo in latino italiano aiutaci Dio nostra salvezza e liberaci per la gloria del tuo nome salva i tuoi servi Dio mio che sperano in te Signore non trattarci secondo i nostri peccati e non ripagarci secondo le nostre iniquità mandaci Signore l'aiuto dal tuo santuario e difendici da Sion Signore ascolta la mia preghiera e il mio grido giunga fino a te il Signore sia con voi e con il tuo spirito poi la bellissima preghiera carissimi e io la dico la dico per tutta la nostra nazione per tutta l'Europa e per tutto il mondo preghiamo o Dio che giustifichi l'empio e non vuoi la morte del peccatore supplichiamo la tua divina maestà proteggi il benigno dei pericoli delle acque col tuo celeste aiuto i tuoi servi che in te sperano e custodiscili con la tua divina protezione perché servendoti sempre nessuna tentazione di separare da te per Cristo nostro Signore Amen e poi è la benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su queste acque e dei domini Amen e dei domini Amen bene carissimi abbiamo fatto anche noi la preghiera come come Radio Maria e ovviamente continuiamoci ascoltatori per tutta l'Italia perché questo tempo diciamo di inondazioni venga posto a fine a questo tempo di inondazioni e ci di essere un tempo di bel tempo per tutta l'Italia e caramai se c'è qualche regione magari la Grigentino dove non c'è ancora abbastanza acqua lì faccia piovere scusate e per qual motivo visto che Dio ha creato il mondo e lo governa per qual motivo noi non dobbiamo avere l'umiltà la fede e perfino come dire il coraggio e la gioia di fare questa di fare di bussare al posto al cuore di Dio perché si faccia sentire la sua presenza e abbia pietà di noi ecco noi abbiamo dato il buon esempio aspettiamo che i parroci si muovano bene carissimi questo dunque era l'articolo di Luiziana Scorsati pubblicato sulla bussola io l'ho un po' purgato qua e là perché non deve mai apparire nulla su Radio Maria che non sia più che diciamo così e ora sopraffino credo sicuro se ho dovuto purgare qualcosina qua e là e però lo raccomando i parruci e i sacerdoti e insomma non lo so fa parte fa parte della nostra missione cari amici non lo so io sono cose che la Chiesa ha fatto per duemila anni cosa c'è di speciale adesso siamo forse diventati più intelligenti ma noi siamo la generazione più imbecilia della storia che è stata distruggendo il mondo ma non ve ne siete accorti bene carissimi adesso chiudiamo questa parentesi e andiamo a sì c'è il tempo per fare il nostro il nostro editor realino scusate due cari amici come sapete dopo che è stato dato il nulla ostra con tutte le interpretazioni che vengono date comunque il nulla ostra diciamo più i giorni passano più più si manifesta come una un bel regalo che Dio ci ha fatto attraverso la Chiesa attraverso il Papa in particolare e poi ovviamente il valore di questo nulla ostra mi pare si manifesterà col tempo che passa però non c'è dubbio che quello che deve essere chiaro a tutti cari amici è che anche le apparizioni più diciamo come quello di Medjugorje che due da 45 anni da 43 anni vanno i 44 che comunque ha un consenso nella Chiesa molto vasto di credibilità di diffuso di credibilità poi anche le persone che hanno creduto che credono nelle apparizioni sono Papi sono Cardinali sono quindi c'è una quoziente ecclesiale altissimo l'apparizione di Medjugorje non c'è dubbio però cari amici alla fine fine e alla fine fine però con il giudizio della Chiesa con l'ufficiale non quello personale di questo Papa che crede personalmente eccetera il giudizio della Chiesa è fondamentale non c'è dubbio al riguardo e il giudizio che ha fatto la Chiesa con nulla osta è un giudizio di approvazione parziale mi sentirei di dire cioè la Chiesa ha diciamo così ha messo in luce i frutti straordinari di grazia di conversione di benefici spirituali che sono una testimonianza vastissima e poi la Chiesa come ha detto qui dottor Andrea Tornielli che è il direttore della comunicazione vaticana l'ha detto qui a Radio Maria e l'ha detto anche sul suo sito internet ha detto che c'è anche in più un giudizio positivo sull'insieme dei messaggi quindi la Chiesa come dire ha approvato parzialmente non ha un giudizio sulle apparizioni cioè sulla sopranaturalità perché nel suo nuovo regolamento lo riserva soltanto in casi rarissimi e per quanto riguarda Međugorje potrebbe essere uno di quei casi che però è secondo quanto chiesto dalla Madonna stessa è rimandato a quando ci sarà il segno sulla montagna quindi però qual è la situazione adesso? la situazione è quella di un riconoscimento parziale perché vengono riconosciuti i frutti ed è dato un giudizio sui messaggi non vengono ancora riconosciute le apparizioni questa è la situazione però anche le apparizioni non sono ufficialmente riconosciute però ormai da 43 anni i messaggi della Madonna vengono pubblicati sul sito parrucchiale quindi come dire la Chiesa essendo questo un fenomeno in evoluzione homework si dice in evoluzione aspetta segni inequivocabili che può essere il terzo segreto per dire che la Madonna c'è veramente a Međugorje però non lo esclude neanche per cui noi fedeli io sono fra quei fedeli possiamo tranquillamente credere alle apparizioni rimettendoci poi ovviamente al giudizio definitivo che darà la Chiesa quindi questa è la situazione è una situazione nella quale cari amici quello che vorrei mettere in evidenza è che il giudizio della Chiesa è fondamentale cioè anche a me secca e difatti non uso la parola presunti veggenti o presunti messaggi non mi piace perché in italiano la parola presunto è di carattere giudiziario quindi non è adatto un processo a un discernimento spirituale come è quello di un'apparizione non so se si troverà una parola qualcuno ha proposto possibili veggenti ma non lo so però attenzione cari amici c'è una cosa che dobbiamo avere ben chiara è che è che l'approvazione dell'autotità ecclesiastica è fondamentale cioè cioè non si può fare a meno dell'approvazione dell'autotità ecclesiastica per cui uno può essere convintissimo di vedere la Madonna ma se non c'è l'approvazione dell'autotità ecclesiastica la tua convinzione rimane tua personale e basta cioè solo l'approvazione solo il riconoscimento dell'autotità ecclesiastica accredita delle apparizioni accredita nella chiesa delle apparizioni senza il riconoscimento dell'autotità ecclesiastica non c'è l'accrevitamento dell'apparizione nella chiesa quindi questo va sottolineato cioè il ruolo fondamentale dell'autotità ecclesiastica non c'è niente da fare quindi grazie per quello che è stato fatto e grazie anche per il fatto che comunque come è stato detto il futuro è aperto anche per il riconoscimento della soprannaturalità ma questo che va detto con molta chiarezza è che senza i riconoscimenti dell'autotità ecclesiastica non ci sono accreditamenti ecclesiali mi sono spiegato rimangono apparizioni private c'è niente da fare e quindi quindi apprezziamo questo accreditamento parziale che c'è stato e lavoriamo perché poi quando sarà il momento stabilito dal cielo ci sarà anche l'accreditamento ufficiale definitivo prima della grande battaglia dei sette fragelli quelli dal quarto fino al decimo allora questo era un chiarimento che volevo dare cari amici e quindi e quindi io capisco che invece di Meggiugorje avrei preferito un riconoscimento delle apparizioni però diciamo bisogna accontentarsi di quello che è arrivato insomma l'attuale momento non è cosa da poco se si tiene conto che è un evento ancora in atto non è cosa da poco che la Chiesa abbia approvato i messaggi abbia approvato i frutti abbia in qualche modo diciamo dato un giudizio sui messaggi per i venicenti e questo è un fatto molto molto importante insomma che li rende ovviamente diciamo così c'è c'è un accreditamento parziale della parte della Chiesa che è preziosissimo e si punterà ad andare avanti in totale obbedienza affidamento alla Chiesa senza la quale non si va da nessuna parte deve essere ben chiaro comunque io su questo punto qui sono stato sempre molto coerente io quando ho scritto il mio primo libro perché credo a Meggiugorie era il 1986 io in quel libro lì se non vado errato era quel libro lì ho scritto che avevo spiccato per Meggiugorie un delegato pontificio sono del primo in assoluto a manifestare l'importanza che su un fatto così eclatante come l'apparizione di un paese dell'est ci fosse già una una scesa in campo della Chiesa già allora io proposi questo pensate voi quanto tempo è passato poi bene adesso quello che volevo dire oggi cari amici cioè noi adesso dobbiamo cercare di lo ritengo un mio compito particolare un mio compito particolare poi non so se sarò all'altezza della situazione che Dio mi aiuti aiutate ma anche con la vostra preghiera ovviamente non ho pretese di essere infallibile lo sapete però comunque noi dobbiamo adesso camminare con la Chiesa e dobbiamo comunque cercare di capire il piano della Madonna cercare di aiutarla a realizzarlo insomma e per cui anche io mi sforzerò man mano che andiamo avanti di chiarire sempre chiarire meglio le situazioni la situazione nella quale ci troviamo perché perché la manciapazza del pubblico nonostante che ci sia Radio Maria che parla però non è che tu ti ascolta Radio Maria e il pubblico è vastissimo e non tutti hanno una formazione qualificata ci sono molti che parlano a Vanvera diciamo pure parlano da ignoranti non sono preparati non hanno una preparazione teologica e neanche specifica su Međugorje quindi e quindi la radio diventa uno strumento continuo di acculturamento di acculturare le persone informali che si formino abbiano una visione chiara dalle cose allora quello che volevo dire quello che volevo dire stamattina è una cosa che è importantissima cioè fra tutte le apparizioni che io conosco apparizioni della Madonna ma anche rivelazioni ma anche rivelazioni o profezie private non ce n'è neanche una che sia così precisa come lo sono i segreti di Međugorje cioè detto in parole povere partiamo con un esempio che è davanti agli occhi di tutti il secondo segreto di Fatima e il terzo segreto di Fatima sono delle profezie chiarissime il primo secondo segreto di Fatima è l'evoluzione della Russia l'evoluzione anticristica della Russia poi la seconda guerra mondiale poi la persecuzione e poi l'istruzione di popoli insomma tutto però il terzo segreto di Fatima è la famosa salita al calvario della chiesa però in questi messaggi mariani non c'è nessuna data non c'è nessun riferimento a che secolo al secolo erano nel 1900 e certo una parte della profezie di Fatima riguarda il terzo millennio per esempio quindi non ci sono nelle profezie mariane e anche nelle altre profezie quella per esempio di Maria Valtorta quella per esempio della Beata Aiello quella per esempio diciamo ce ne sono tanti non lo sappiamo e non ci sono riferimenti neanche 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 generici su quando accadranno le profezie non ci sono per cui a volte ci stiamo lì a valutare se è accaduto o dovrà accadere insomma quindi lo stesso Benevento XVI ha riguardo detto che per quanto riguarda la profezie di Fatima in parte in parte si è realizzata in parte si deve realizzare quindi ora cari amici i segreti di Međugorje dal primo al decimo hanno tutti una data e cioè sul rotolo c'è scritto l'evento che accade quindi è specificato l'evento di ogni segreto per cui per quanto riguarda il primo segreto quello che accadrà l'evento naturale che accadrà cosa sarà un terremoto un'inodazione viene indicato l'evento e di tutti i segreti viene indicato l'evento anche nel terzo viene indicato che cosa sarà il segno viene indicato l'ora e il minuto esatto in cui l'evento accadrà per cui facciamo il primo esempio a Međugorje supponiamo che sia un terremoto facciamo un esempio di un terremoto che spaventa di meno perché uno magari pensa ad andare sotto il tavolo e si salva ebbene cari amici vi è indicato non solo il giorno ma anche l'ora e il minuto e quanto durerà l'evento è questo di ogni segreto di ogni evento di ogni segreto verrà indicato l'ora e il minuto e quanto durerà l'evento cari amici e quindi questo vale per tutti i dieci segreti di Međugorje e i veggenti tutti salvo Maria che dice che non sa quando accadrà il terzo segreto che è il segno sulla montagna e specifica anche che le sente nessun desiderio di chiederlo agli altri tutti conoscono tutti conoscono gli eventi dei segreti a meno i principali dice Visca perché qualche d'uno ha anche qualche segreto personale mi pare Ivan abbia qualche segreto personale però gli eventi principali dei segreti di Civisca sono uguali per tutti dice lei io penso che siano uguali per tutti tutti conoscono il giorno l'ora il minuto e quanto dureranno ora noi ci chiediamo cari amici per quale motivo la Madonna è così esatta a mio avviso il motivo è questo e cioè quando uno vede preannunciato tre giorni prima che evento accade l'ora il giorno in cui accade l'ora in cui accade e il minuto in cui accade quanto tempo dura di fronte a una profezia così particolare non potrà certamente dire che è avvenuto per caso che questa profezia è stata indignata per caso la profezia appare in tutta la sua forza cioè è Dio che ha voluto quell'evento in quell'ora in quel minuto ha avuto quell'evento in quell'ora in quel minuto ha voluto che durasse tanto tempo quindi questa precisione per ogni segreto che riguardi quello che vi ho detto questa minuziosità quindi questo accadimento proprio in quelle circostanze in quei minuti e per quel tempo che diciamo così viene rivelato indica una signoria sugli eventi della natura totale indica soltanto indica la potenza di Dio la signoria di Dio l'onipotenza divina e quindi testimoni a Dio testimoni alla presenza di Dio testimoni alla salvezza di Dio testimoni all'esistenza di Dio testimoni alla presenza della Madonna ma se questo fosse solo per un primo segreto e basta basterebbe di per sé ma sa come la mente degli uomini e fanno la svelta a dimenticare allora la Madonna ha voluto che tutti gli eventi tutti gli eventi dei segreti compreso il terzo che sarà un segreto che viene da Dio e non dalla natura tutti gli eventi fossero preannunciati con una precisione estrema e quindi sarà un ripetersi di questo evento straordinario della profezia che si realizza per dieci volte cari amici di fronte a questo fatto chi non piegherebbe le ginocchia chi non crederebbe chi non si incinocchierebbe cari amici eppure ci saranno quelli che lo faranno e si perderanno cari amici e perché la Madonna fa questo fa questo perché vuole che tutti si salvino ma purtroppo come ha detto la Madonna io nella mia umiltà mi inginocchio davanti alla vostra libertà vi supplico convertitevi non posso decidere per voi voi dovete decidere per voi stessi cari amici quindi vedete che il tempo che abbiamo davanti è un tempo straordinario c'è il tempo della signoria divina sul mondo della manifestazione divina sul mondo e che lezione è anche per la chiesa che fa fachica a riconoscere i segni dei tempi cerca di rimuovere il soprannaturale a volte e non vede quello che dovrebbe vedere i segni dei tempi come ha detto la Madonna guardate i segni dei tempi io quando parlo di chiesa parlo ovviamente non della chiesa docente o pastorale credo di tante forme di poca fede che ci sono per cui siamo addirittura al punto che molti vanno in chiesa fanno una professione di fede nel credo diciamo così sulla risurrezione della carne e non credo nella di là siamo a questi punti quindi potete immaginare quale lezione sarà cari amici il tempo dei segreti sarà una lezione per i non credenti ma anche uno stimolo uno stimolo a credere a riprendere la fiamma della fede a infervorarsi saranno tempi straordinari tempi da da vivere nonostante la drammaticità delle situazioni cari amici questo è quanto è quanto volevo dire volevo dire volevo mettere in luce e cioè il tempo dei segreti sarà proprio per la precisione con cui la madonna rivelerà tutto sarà una sfida all'incredulità e sarà come dire un'opportunità per convertirsi e per credere bene con questo abbiamo terminato cari amici adesso c'è il blog il blog c'è una lettera di Giuse che mi fa il bilancio di come la situazione l'attuale amici orie cioè praticamente c'è solo Maria che ha le apparizioni perché di Viscasi sono persa le tracce Ivan è tornato negli Stati Uniti mi chiede mi chiede Giuse ma padre Livio non sembra che ci sia una ci sia un rimensionamento forse troppo troppo visibile delle apparizioni in questo momento in particolare c'è un solo vergente vediamo cosa rispondo io al riguardo cari amici e cioè rispondo che la Madonna ha tutto in mano e che nel tempo dei segreti cari amici tutte e sei vergenti saranno in campo e come altro che con questo terminato prendiamo qualche minuto una pausa di qualche minuto poi adesso abbiamo ancora per un paio di giorni il nostro libro di Catechesi Meggiugordie i futuri di Dio poi avremo una piccola sosta perché incomincieremo il nuovo libro di Catechesi bellissimo cari amici e cioè vi voglio tutti con me in paradiso il nuovo libro uscirà fra qualche giorno potete già prenotarlo qui a Radio Maria attraverso Whatsapp 031 610 610 mettete su Whatsapp il titolo del libro se diciamo vi voglio tutti con me in paradiso nome cognome indirizzo il numero di cellulare per il corriere e ve lo spediamo a casa potete cercarlo anche sull'istore online nelle librerie cattoliche e anche chiederlo all'ufficio informazioni 031 600 11600 cari amici e così e ci apprestiamo a questa volata finale fino a Natale con questo bellissimo libro di spiritualità che sia nel momento giusto nel momento della festa di tutti i santi e vi voglio tutti con me in paradiso speriamo che si realizzi veramente quello che la Madonna ha detto a fra poco grazie a tutti